Ciao a tutti amici di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Bannerlord con Ordonno. Nello scorso episodio ci siamo accorti che possiamo diventare molto poveri e molto in fretta, ma abbiamo anche capito come si fa a corrompere la nobiltà di Calradia. O meglio, finalmente sono riuscito a spendere 300.000 denari portandomi un'intera famiglia di nobili di un clan avversario. Adesso andiamo a vedere se li trovo forse qui. Sono i Sorados, no scusate, i Sorados già ce li avevo, sono i Vagiroving, un clan di tier 5, quindi è molto più forte il mio clan, che conta 5 maveri, Goduner, Talek, Svana e Sven. Proposto di expel this clan for the kingdom, spend your own influence to increase the influence of the sacred clan. No, ma neanche per scherzo. Allora, qui qualcuno mi suggeriva di cambiare il colore del mio standard. A me piace il nero e oro, non lo so. Forse sarò troppo metal, sono troppo brutal, non lo so, però mi piacerebbe tenerlo così com'è, insomma. Andiamo avanti? Stiamo tornando a casa. Calatid è una sovrana fortissima e penso che non riuscirò mai a convincerla di nessun tipo di corruzione, però se riuscissi a portare Calatid dalla mia parte... What are you saying exactly? Allora, iniziamo la fase in cui cerchiamo di convincere Calatid che stare dalla nostra parte è meglio. Adesso vedete che il successo critico è il 43% perché siamo migliorati come... come tipo di... come si dice... oratoria, eravamo 34% prima. Ok, un successo l'abbiamo fatto. Ne sarebbero serviti 4 però. Un altro successo è andato. Dopodiché... Ho qui un critico, non ce la facciamo. Inefficace, nulla di tutto questo. Calatid non la porteremo mai dalla nostra parte. Io, ragazzi, sfrutto il bug per aumentare lo charm di ordonno e così ci facciamo il livello. Il bug cosa vuol dire? Praticamente si fa uno scambio dove non ci si scambia nulla e quindi si accetta chiaramente. Voi amico io ti dico niente, tu mi dai niente, siamo d'accordo? Sì, bella zio. E intanto sale la saga di livelli. E lo vado a piazzare proprio qui, sullo charm, perché deve salire e devo diventare molto 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 abile nella politica. E quindi charm e leadership, vedete che adesso sono diventati per ordonno delle caratteristiche chiave molto più importanti del combattimento. Anche se, comunque, diciamolo, è bravo anche combattere. Done. E torniamo a noi. Peccato non essere riusciti a prendere Calatid. Sarebbe stato veramente un colpo fantastico. Ma non sempre si può vincere. Avrei potuto fare la magia per ricaricare, ma no, grazie. Recrutiamo le truppe. E queste sono tante. Trade, vediamo di vendere la rubaccia. Dovremmo averne abbastanza. Visto che abbiamo menato un po' di gente. Ok. E adesso andiamo a parlare con Tomuns. Parliamogli. It has been a while. Devi parlare a Calatid. Ah, lui è il figlio di Calatid. Non può passare dalla mia parte. Chiaramente. 89 looters, ragazzi. È un po' il sogno bagnato di ordonno. Perché 89 looters. Cioè, così si diverte. Surrender or die. Facciamo un po' di esperienza. Attacchiamo in campo. E che bello. Questi sono tutti i fanti. Qui c'è la gioia degli arcieri. Qualcuno, due episodi fa, mi diceva Ma perché metti gli arcieri davanti la fanteria? Io non capisco bene da come fa... Perché lo fai? Perché in effetti la fanteria dovrebbe stare davanti. Sì, è chiaro. Assolutamente. Però, perché gli arcieri stanno davanti di solito? Perché intercettano come... In fase di schermaglia. Schermaglia. Intercettano i nemici e iniziano a tirare le frecce. Quando i nemici si avvicinano Io faccio partire la carica di fanteria. Adesso lo facciamo sta cosa. E mettiamo gli arci qui sopra. Faccio partire la carica della fanteria. E in questo caso la fanteria poi sorpassa gli arcieri E la fanteria nemica non li tocca. Non li intercetta neanche per sbaglio. Vedete? Adesso noi siamo sopra e tiriamo. Appena inizio a dare un po' di... Un po' di danno. Do l'ordine di attaccare con la fanteria. E adesso la fanteria esce dai ranghi. La cavalleria pure. E c'è lo scontro fisico. Tra fanteria e cavalleria. E adesso c'è il drop del morale. E quindi iniziano tutti a scappare i looter. Ma anche se fosse stato un esercito regolare Finiva male ugualmente per loro. Perché... Non riesco... Ah, qua ce n'è. Forse riesco a prenderne uno. Perché... Ho parlato così tanto che... Ecco uno mi ha fatto fuori. Ho parlato così tanto che alla fine non ho attaccato. Loro mi hanno fatto fuori uno. Ho guadagnato soltanto 10 livelli. Ma questo è poco però. Comunque per farlo a breve, sì. E' importante tenere, secondo me, la cavalleria e la fanteria dietro gli archi. E poi liberarli quando il nemico è abbastanza vicino. Morkan, famiglia dei corteine. No. Non mi interessano. Non mi interessano. Fatemi scendere. Anzi, fatemi guardare una cosa. Il clan. Io ho sei companions e ho tre parti. Ho due parti. Perché? Perché il party di... De Regunda the Black era stato distrutto. Adesso chiediamo a De Regunda di... Che ha Marunat. È a Marunat De Regunda, ok? Le chiediamo di... Marunat è qui. Vabbè, qua. Le chiediamo di... Di mettere insieme le sue cose e reclutare un party. Spero che non venga fatta fuori dai nemici perché sennò mi... Mi arrabbio. Perché sennò è un cane che si morde la coda e non riesco a farle fare esperienza e quindi il party non parte. Scusate, gioco di parole. Andiamo a parlare ad Ortizia. Vediamo... Tais. Ortizia è in mano ai Fenengal. E nel Keep c'è Sven. Ed Erta. Sven che cosa vuole? Company of Trouble. Gli parliamo ma non per la missione. Ormai le missioni dei Nobili. Ok, non sale più il Barter. Strana sta cosa. Niente, non posso parlargli del... Il tradimento. Forse non è di un tiro abbastanza alto. Per passare da mia parte. Idem. E vedete che il carisma deve essere salito dal 77. Boh. Back to the town. Potrei reclutare un uomo perché gli altri mi erano schiattati. E ci facciamo il torneo inizio partita questa volta. Qui sono Celti quindi... Ascia a due mani come se non ci fossero un domani. Partiamo a piedi purtroppamente. Ma... Non dovrebbe essere difficile. Siamo i blu. Raga, ce ne ho fatti fuori due da solo. Sto diventando un campioncino. Un campioncino. Vieni qua. Uh, qualcuno è caduto dal cavallo. Urca, urca. Eh, vabbè. Dai, mi rubi le kill così, cacchio. Ok, penso che sarà il caso di... Di sfidare la... Maledizione. Scommettiamo. Join. Spada, spada. Yeah. Quanto godo. Uh, c'è anche un giavellino. Buono. Ehi, giavellino. Non tirali verso di me, però, eh. Che cappero. Muore. Mueri. Forza, muori. Molto benissimo. Tiè, piglia di questo. E' andata, ragazzi. Nonostante la maledizione delle scommesse, ci abbiamo fatta. Eh, guarda come ride il mio amico. Bet, nove scommesse. Anche se la maledizione delle scommesse di solito dà i suoi frutti nefasti in finale. Ed è andata anche questa. Questa è stata molto facile, comunque. Fino ad ora. E adesso sfidiamo il board champion. Con una roncola. No, guardate un po' che culo. Abbiamo vinto. L'ho detto prima che iniziasse tutto. Aspettate, eh. Volevo usare quella strategia dei blocchi chiamati. No. Pesci di scudo, mi piace. Devo poi imparare le tecniche anche di combo, perché... Attaccare normalmente... Quanto abbiamo guadagnato? Vabbè, l'iron spike kettle, 919 soldini. Non è male. Non è male. Quello che volevo dire è che comunque è facile tenere lo scudo sempre alto, ma quando non si ha... Sì, è un tier 4. Quando non si ha lo scudo poi è un casino gigantesco. Quindi, insomma... Va bene. Trade. Vendiamo tutta sta robaccia. L'abbiamo appena vinto, ma... Come voi sapete. Come voi ben sapete. Ok, leave. Andiamo via di qui. Andiamo alla ricerca di... Di personcine di un certo rilievo, dai. E nemici. Poi si è proprio buttamare e facciamo una guerra, ma... Vorrei evitare, per il momento. Ah, questa è casa nostra. Un mese di cibo. Un mese di cibo. No, comunque... Adesso, guardando la mappa, mi fa piacere che i Celti... No, Saturn Empire Defeated. No, non ci credo. L'impero è stato distrutto così. Senza che facessi nulla. Scusate, quindi la missione... Ah, beh, è finita la missione principale di esagerare l'impero. Fantastico. Adesso dobbiamo bloccare Istiana. Che non si può bloccare. Bisogna parlare dei nobili. Mi è stato detto, ma... Boh. Io onestamente... Me ne sbatto, tipo... Chissà cosa succederà. Ergeon, parliamo a te. A meno che tu non si arredi tutti i Celti, magari mi passi dalla mia parte. Ergeon. Allora. I barely know you and you're asking me to reason. Sì. Praticamente sì. È super inefficace. Va bene. Guardate come mi guardo in modo arrabbiatino. Ineffective. Va bene. Critical Success. Fantastico. La qualità di Calagora leggendaria. Peccato. Se avessi fatto un altro Critical Success l'avrei portato a casa. Invece tre fallimenti normali e un critico non... non bastano. Va bene. Me ne vado. Però è stato bello parlare con te. Che bello parlare con te. Vediamo nel Gazze Castle se... non ci fanno manco entrare. Non c'è nessuno qui. Figuriamoci. Facciamo una cosa. Andiamo un attimo nel Regno. Fatemi vedere se riesco a far passare qualche legge. Parli se mi è solo le Royal Guard. Allora. 5% of the village income is paid to the rural clan as tax. Less income for clans. Va bene. Monopoli di Stato. Rural gains 5% settlement as tax. Worship production is decreased. Sì. Votiamo per il Monopoli di Stato perché così guadagniamo meno delle nostre manifatture ma i settlement ci pagano di più. Sacred Majesty. Magistrati. Abbassiamo le tasse dando i magistrati più potere nelle città. E guardate quanto i punteggi ho. The Basement of the Crown si manca lo voglio guardare. No, lasciamo stare. Ok. Crown Duty. Fatemeli leggere un attimo. Eh, le rettini esnobiliari. Eh, i tier 4 guadagnano più influenza al giorno e le loro parti può aumentare di 50. Assolutamente sì, lo votiamo perché presto saremo tier 4 anche noi quindi avrò più... la possibilità di portare più uomini con me. Ma è stata rifiutata o no? No, ce li abbiamo. Boh. Ehm... Hunting Rights, no. Vabbè, adesso c'è veramente troppa roba. C'è veramente troppa roba. Vado avanti perché non posso passare il tempo a mettere in ballo delle policy e robe di questo tipo. Va bene. Aschiron. Ma Aschiron è un... Aschiron è un... Viking Goz, non mi interessa. Ok, leviamoci lì qui. Torniamo verso casa. Torniamo verso Sargot. Ehm... E cerchiamo di incrociare sempre persone. Ma... Io penso che adesso inizierò a riflettere sulla possibilità di muovere guerra ai Glandian. Ok, Dera Gunda intanto è scappata dalla... dalla sua prigionia. Brava Dera Gunda. Dove si troverà adesso? Chi lo sa? Chi lo sa? Godun è mio già, ok. Chi è che attacca Veron? C'è qualcuno che stava saccheggiando? No, se ne sono già andati. Però era... Era un castello fumante. Io voglio vedere... Se vedo la diplomazia... Non riesco a vedere chi è in guerra con chi. Interessante. Ovviamente sono... Sono abbastanza, come dire... Sarcastico. No, sarebbe bello poter vedere chi è in guerra con chi per attaccare le nazioni un po' in difficoltà e fare facci di conquiste. Ma io adesso posso fare due cose. O attacco i Glandian o attacco gli Arabi. Io penso che attaccare i Glandian sia la cosa migliore da fare. Quindi... Tanto facciamo una magia prima di attaccare. Magia che non sto usando da un po' di tempo. Cosa mi sta succedendo? Ottimo. Ok. Andiamo a Sargot nella taverna. Vendiamo i prigionieri. E... Leviamoci di qui. Adesso magia. E adesso vado a chiamare i miei uomini. Ah, a proposito. Clan. Parties. Ricreiamo il party di Dragunda, chiaramente. che avar che... Ah, mamma mia. Ci metterà una vita. Allora, chiamiamo l'esercito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Beh, comunque ragazzi, Godun, Lex e Svana da soli mettono insieme tipo 300 uomini. Cioè, adesso io con questo esercito posso veramente dichiarare guerra alla Vlandia. non sto scherzando. Wait here some time. Rimandiamo a Sargot intanto che i nostri vassalli arrivano e poi si fa una guerra contro un'altra fazione completamente nuova. Per ora solo Svana ci ha raggiunti. Godun è arrivato. Non so dove siano gli altri. Volevo comprare un po' di cibo. Ok. Un bel 1200... No, cos'erano? 1400 denari in... 1482 denari in grano. Così sappiamo che la pancia piena ce l'abbiamo. Ok, mancano soltanto Saratis e Gerotion. Da perché si può partire? Ah, no. No, 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 no. Manca anche Lek. Arrivano o fanno finta? 14 ore, 13 ore, 16 ore. Ah, niente. Facciamo passare un altro giorno. Non attacco la Vlandia senza un esercito super power. Gerotion è arrivato con 59 persone. Bene. Der Regund è stata prigioniera presa prigioniera ancora una volta dai banditi. Va a finire che darò il party a qualcuna altra perché Der Regunda è un fallimento unico. Stop waiting. Leave. E adesso... Ragazzi, Ordondo con 798 uomini. Come dire... Eh... Mi mette... Mi mette... Mi mette di buon umore. Peric. Peric. Vieni qua. Attaccheremo Aromak per dichiarare guerra. per far loro capire che siamo un attimo in guerra. Take hostile action. Ride il villaggio. Continua. End the raiding. E attacchiamo Iaculan. Le nostre relazioni con la Vlandia sono crollate ora che Ordondo ha saccheggiato Aromak al volo e si sta spostando per assediare Iaculan. Ed è una roba bestiale quello che sta accadendo. Uno, due. Iaculan è una città bella grande. Bella grande. Wow. Mi serve un botto di di influenza per aumentare la coesione. Hanno 515 uomini dentro più quelli che adesso porteranno. La guerra tra Lord Onnich e la Vlandia, ragazzi. Boom. Mamma mia. Mamma mia che episodio che vi sto tirando fuori. Cioè la Vlandia è stata la terra che ci ha colto dopo che Ragaea ci ha cacciati. Ragaea poi ha pagato con la testa tagliata ma la Vlandia non ci ha fatto niente di male. Ma Ordon essendo un satanasso tradisce come se non ci fossero domani. Tanto Sylvie arriva. La nostra amata Sylvie che diede a Ordon un 2 di picche. Non dimentichiamolo. Non dimentichiamolo. E adesso guidiamo l'assalto e Sylvie sarà lì pronta a difendere la sua patria. Che storia di amore di guerra ragazzi questo vanderlore. Ok auto deploy begin assault. Ci si diverte. Ammazza se siamo in inferiorità. Fuck siamo in inferiorità e non di poco. prendiamo la spada e lasciamo qui il nostro cavallo che sembra un velociraptor. Un nicloso ha un velociraptor e una mosca. Comunque non abbiamo fatto catapulta non abbiamo fatto niente. Se prendiamo Yakuna ragazzi no non penso di farlo. Penso di farlo una cazzata di proporzioni bibliche. Faremo finta che questo è stato un sogno di Ordon e caricheremo la magia ma vediamo se il sogno di Ordon funziona oppure no. Dov'è il eccolo lì oh Gesù raga le unità sono quasi arrivate le mura ma abbiamo perso un botto di gente anche qua ci sono tutti questi tiratori professionisti che spingono come se non ci fossero mai cerchiamo di buttarci dietro alla riete e cerchiamo di essere tra quelli che sfondano la porta vediamo se funziona vediamo se mi fanno passare ok allora io con il battling ram ragazzi tra l'altro è mezzo morto ah pugni proprio lo sta spaccando il gate dammi la spada ok ottimo ok iniziamo a cercare di abbattere la porta come riusciamo potremmo riuscirci non troppo cioè abbastanza in fretta il problema è che da dietro è pieno di nemici cattiviti e poi non sarà facile ok quindi adesso prendo i giavellini mi metto qua e mi preparo al grande scontro uno no troppo alto mirato ok uno l'ho fatto uno solo l'ho fatto fuori guarda questo maledettissimo che che cercava di tirare con l'arco da qui fuori ok niente hanno l'ordine di tenere alti gli scudi e quindi io non posso fare altro che rimanere dietro con la lancia e cercare di sconfiggerli problema se vogliamo è che non riesco neanche a tirare il colpo cioè devo indietreggiare per riuscire ad affondare è un casino niente prendo la spada e provo a dare fendenti e colpisco sempre i miei ragazzi è un casino gigantesco se soltanto avessi avuto il cavallo qua non posso non mi piace proprio per nulla perché questi corrono ne hanno buttato giù le torri per caso perché se corrono di qui vuol dire che no le torri lì sono pronti in realtà gente carica carica totale tutti tutti in carica sto perdendo tantissimi uomini Gesù la cosa divertente è che mi caricano sì ma vanno vanno tutti il cancello pazzesco niente vedo che le mura comunque le abbiamo già prese quindi adesso provo a vedere se Ordon riesce a salire sulle mura la situazione si sta un po' ribaltando vedo molte più unità mie vincere ok questi sono avversari però niente è andata è andata le mura vanno completamente in mano loro quindi adesso è tutto dipende un po' da tutto dipende un po' da cosa succede qui se questi tengono botta oppure se riesco ad entrare ecco io qui invece che andare sulle mura potevo sgattaiolare a lato e poi attaccarli da dietro con la lancia nulla va bene dai comunque vedete che le mura le hanno ancora loro pochissima gente ma ce le hanno ancora loro intanto noi siamo entrati nel castello e siamo in superiorità numerica quindi yukulan cade come riusciremo a tenerla questa è un'altra domanda vediamo dall'alto che meraviglia beh dai questi assedi così sono bellissimi a vedere bellissimi ed ecco vedete che qui gli archi nemici sono ancora in posizione per tenere le mura ma sta arrivando la nostra fanteria che li macella proprio non c'è non c'è scampo avevamo un numero tale da essere impressionante e questo numero ce l'ho ce l'abbiamo perché per la corruzione della famiglia nobiliare che abbiamo preso dall'episodio scorso sono quel cavolo che riuscivo a prendere in questa città questi dove scappano scusate il drone di ordonno e scappano che roba divertente giuro ancora 14 in gioco vittoria 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 noi abbiamo perso 200 uomini 208 loro abbiamo perso 290 quasi e portiamo a casa un po' di prigionieri un ordonno a pezzi roba divertente se qualcosina riusciamo a comprarci a vendere a guadagnare insomma e adesso la città di Iaculan come potete vedere è qui accanto a Sargot ed Usank quindi non abbiamo fatto non abbiamo fatto male continuiamo adesso con 461 uomini io direi che salviamo la magia e parliamo a questo party fanno via allora ci buttiamo all'interno e facciamo nel keep no scusate nella nella taverna vendiamo i prigionieri reclutiamo quello che possiamo e wait here sometime aspettiamo che l'ordonno si riprenda e che gli uomini si riprendano a loro volta dopo di che usciamo e cerchiamo di affrontare un nemico qualsiasi qui c'è Perix vedete che non riusciamo ad intercettarli potrei attaccare a Karas ma secondo me se io ok owner o Viaculan esaminiamo chi diventa l'owner Godun ordonno o Saratis Godun vota per se stesso e c'è da dire che Godun è un elemento molto forte le nostre relazioni sono basse io voto affinché Iaculan diventi proprietà di Godun in modo che si integri nell'ordonnica e inizi ad apprezzarmi ma adesso noi marciamo verso Galand poi e guardiamo bene che cosa succede a Iaculan perché se me la vado ad assediare poi chiaramente io devo cercare di prendermela ma devo essere più veloce io ad assediare Galand punto e basta besiege the town e ancora una volta uno due tre magari questa volta proviamo a mettere anche un paio di catapulte a dare una mano vediamo se questi vengono come è come sempre a gironzolare come le mosche zezze attorno al nostro campo pare di sì sylvind è tornata è tornato anche peric chiaramente nulla quindi bene nuovo assedio intanto noi ci curiamo intanto il nostro esercito continua a crescere presto saremo 700 e abbiamo una promozione a idrun aggeroteon e possiamo dargli l'accidenti medicina no non è con noi non è con noi ok cadfin è con noi nemmeno e allora tanti saluti speriamo che questo assedio vada bene no non ci arriva a 700 comunque guarisco troppo lentamente la torre c'è presto ci sarà l'ariete poi la torre 2 e poi il catapult questa volta cerchiamo di evitare di fare la figura dei fessi durante l'assedio rimango dietro quel cavallo e poi magari entro a cavallo quando è possibile tra l'altro è strano che io non posso utilizzare la cavalleria cioè ce l'ho ma scendono a cavallo per perché quando butto giù quando butto giù il portone in realtà una carica di cavalleria la apprezzerei ma pazienza fire one girl pronto mettiamolo nella riserva altrimenti ce lo distruggono visto che sono partiti i tiri ma non ce l'hanno distrutto ok e anche questo fire one girl adesso lo mettiamo via attenzione stop ok e adesso lead an assault avanti quindi due anagri ce li abbiamo più tutto il resto auto deploy begin assault avanti ed eccola con la catapulta tra l'altro ho visto che loro hanno le catapulte che mi stanno già mirando alla riete quindi c'è anche la possibilità che me lo distruggano quindi non so se riesco alla fine a sfondare il portone principale vediamo come sempre c'è la magia che ci può aiutare il sogno di ordonna no vediamo dai vediamo come come gestirlo eh però intanto vedete che andare a chiusare ha fatto fuori milizia archer perché perché sono le palli infuocate che lanciamo sulle mura che esplodono e questo ci aiuta un pochino ad abbassare il morale nemico e a distrarli ottimo forse potevo fare più catapulte ma pazienza intanto vedo che la torre numero 1 è quasi arrivata alle mura ok bello questo no per niente ok la torre numero 1 è quasi arrivata alle mura la torre numero 2 invece è molto indietro ok direi che possiamo lasciare il cavallo qui sotto perché eventualmente poi lo andiamo a riprendere ok sperando che non crepi prendiamo la spada anzi prendi i giavellotti perché io da qui dovrei essere in grado di vedere questi ma neanche per scherzo proprio i giavellotti e invece ci sono arrivato uno l'ho preso non l'ho ammazzato ma l'ho preso ecco uno invece l'ho ammazzato una giavellottata gliel'ho data buono qui forse la lancia può essere utile perché scendono queste teste di cavolo scendono riprendo il cavallo voglio andare a vedere se sta tenendo il portone ok la torre numero 2 è arrivata e questi stanno salendo molto bene molto 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 bene ok stop vogliamo il cavallo qui dietro a questa torre e andiamo a vedere se riusciamo a salire anche noi bene 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 la torre numero 1 è più è più in difficoltà chiaramente invece qui abbiamo campo libero e stiamo in superiorità numerica uno due tre quattro cinque e sei sette che bello essere ortonno forza maledetto e cadi niente lancia occhio 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 che ci hanno ci hanno bloccati spada otto oh shit queste mura dannate ok sono sono incastrato devo ripiegare ragazzi sto per morire un'altra volta sto per morire un'altra volta però abbiamo preso le mura cioè la vittoria è nostra vittoria è nostra avevamo fatto fuori una anche con i giavellotti quindi in totale con questo dovrebbe essere una decina forse undici adesso non mi ricordo sembra che il casino stia arrivando vicino alle mura ok dai scendiamo da qui buona idea buona buona la vlandia è di ordonno ragazzi se qualcuno non l'avesse capito ecco spiegato il motivo di queste geste intanto vedo il mio cavallo che passeggia perché è entrato nella città è il mio cavallo questo ragazzi lo riconosco e adesso è un po' tipo furia a cavallo del west ci dà una mano non poteva andare meglio di così raga non poteva andare meglio di così mi spiegate chi stiamo inseguendo tipo cioè è finita no 170 morti noi ne abbiamo persi 111 ragazzi ordonno strappa anche questa città è qualcosa di incredibile di fenomenale e io non ci potevo non ci posso credere ancora ma abbiamo conquistato Iaculan e Galen che si aggiungono alla Ghete Sargot quindi adesso il nostro regno inizia ad essere abbastanza grande amici e amiche grazie per aver guardato questo video vi ringrazio per essere rimasti con me vi chiedo di lasciare un pollice in su e qui sotto nei commenti suggeritemi andreste a Karas o a Pravend se foste in me cerchereste di spingere sempre verso nord oppure di chiudervi a tartaruga prendere Karas in modo che poi magari nelle prossime campagne possiamo ritornare a dare un'occhiata agli Azerai ci vediamo presto un saluto